Vice governatore Riccardi, oggi nell'ampia partecipazione del Friuli Inse Giulia ai funerali di Zamberletti ha anche una numerosa rappresentanza della protezione civile regionale, a testimonianza che Zamberletti fu un padre della protezione civile. Non è servito niente, è bastato soltanto dire andiamo a salutarlo e questo è il risultato di questa straordinaria famiglia che esiste anche grazie a Zamberletti, noi non dobbiamo mai dimenticare questo. Noi abbiamo sentito la chiesa, sentire in questa chiesa Saluti Zalpini, una giornata importante che è saluta un grande uomo, un uomo dello Stato, un uomo che ha servuto a tenere insieme lo Stato e il sistema periferico e il Friuli è questa testimonianza. L'assessore della protezione civile è il più grande insegnamento di Zamberletti, qual è stato? Sapeva mettere concordia, univa, non divideva mai, sapeva creare tutte le condizioni per vincere sfide anche impossibili, è un uomo che ha dato molto a questo paese. Grazie. Grazie. Grazie.